La prima volta, ogni volta è la prima volta, la prima volta che doni, dona il sangue, la prima volta e per sempre. Secca sconfitta della Ternana oggi contro la seconda in classifica, come giudichi la prestazione della Ternana oggi al cospetto di una squadra forte? Noi volevamo fare la partita in un modo migliore, secondo me non siamo entrati male in campo, poi stavamo gestendo anche un po' la palla, abbiamo preso le misure, poi è arrivato un episodio dove abbiamo concesso rigore, giocare uno in meno contro una squadra forte così non è facile, la si è cambiato tutto, abbiamo preso tre gol in 10-15 minuti e poi la partita è finita, abbiamo provato a riaprirla a secondo tempo ma non siamo riusciti. L'episodio del rigore in tribuna non si è visto benissimo, te che eri in campo raccontaci un attimo come sono andate le cose. Come l'ho visto io, ha fatto uno, due, terzino loro su Prai penso, puntava in area, io lo volevo un po' trattenere, è arrivato anche Biaggio per fare la stessa cosa, lui è caduto, è fischiato rigore, dal mio punto di vista poteva starci rigore ma non doveva essere espulso a Biaggio, forse a munizione per me e per lui, però sicuramente non è espulsione. Però queste cose già sono andate e non ci cambia niente. Senza l'imperiorità numerica pensi che la Ternana sarebbe vola rimanere in partita? Io credo di sì, adesso non c'è senso parlare di questo perché ormai è andata così, però fin quando c'era 11 contro 11, 0 a 0 non credo che siamo stati molto inferiori, però queste squadre anche da una mezza occasione sanno segnare, hanno qualità per questo puntano per andare direttamente di nuovo in Serie A. Ti abbiamo visto per l'ennesima volta in un ruolo diverso dal tuo preferito, come ti sei trovato a giocare terzino-destro? Insomma avevi dei clienti un po' scomodi dalla tua parte, giocatori che fino all'altro anno giocavano in Serie A? E' difficile rispondere, è una domanda, io mister fa le scelte, ognuno giocatore si mette a disposizione, è una cosa normale, poi la partita la legge è mister, quindi noi facciamo quello che ci chiede, io mi sono impegnato, però quello non basta, almeno non è bastato in episodio di rigore e niente. Domenica si ritorna con le partite normali, perché oggi contro la Curazzata Verona era una partita già difficile all'inizio, tu però non ci sarai per gli impegni con la nazionale slovacca? Sì sì, io non ci sarò, però ci sono altri ragazzi, come ho già detto che si andano molto bene, sono pronti e io posso fare solo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e credo che ci portiamo punti a casa da Vercelli. Ecco, poi Vercelli, ma poi dopo lunedì 17 Trapani, anche quella è un'altra trasferta ad Osta. Sì sì, ci aspettano due trasferte molto difficili, ma io credo che fino adesso l'abbiamo fatto vedere che quando rimaniamo una squadra compatta, quando facciamo le cose giuste, la possiamo giocare con tutti. Quindi speriamo bene e speriamo portarci in punti più possibili da queste due trasferte. Grazie, ciao. Grazie.